1 Nefi capitolo 22 Ed ora avvenne che dopo che io Nefi ebbi letto queste cose che erano incise sulle tavole di bronzo, i miei fratelli vennero da me e mi dissero, cosa significano queste cose che hai letto? 2 Ecco, si debbono intendere riferite a cose che sono spirituali, che verranno secondo lo spirito e non secondo la carne? 3 E io Nefi, disse loro, ecco, esse furono manifestate al profeta dalla voce dello spirito, poiché mediante lo spirito sono rese note ai profeti tutte le cose che accadranno ai figlioli dei uomini secondo la carne Pertanto le cose di cui ho letto sono cose che si riferiscono a cose sia temporali che spirituali poiché è evidente che il casato Israele prima o poi sarà disperso su tutta la faccia della terra e anche fra tutte le nazioni Ed ecco, ve ne sono molti che sono già perduti secondo la conoscenza di coloro che sono Gerusalemme Sì, la maggior parte di tutte le tribù sono state condotte via e sono disperse qua e là sulle isole del mare e dove siano nessuno di noi lo sa, sappiamo soltanto che sono state condotte via E da quando sono state condotte via queste cose sono state profetizzate al loro riguardo e anche riguardo di tutti coloro che d'ora in poi saranno dispersi e confusi A causa del santo Israele Poiché essi induriscono il loro cuore contro di lui Pertanto saranno dispersi fra tutte le nazioni e saranno mediati da tutti gli uomini Non di meno, dopo che essi saranno stati allevati dai gentili e il Signore avrà alzato la sua mano sui gentili E li avrà innalzati come uno stendardo e i loro figlioli saranno stati portati fra le loro braccia e le loro figlioli saranno state portate sulle loro spalle Ecco, queste cose di cui si parla sono temporali Poiché tali sono le alleanze del Signore con i nostri padri e si riferiscono a noi in giorni a venire E anche a tutti i nostri fratelli che sono del casato Israele E significa che verrà il tempo in cui, dopo che tutto il casato Israele sarà stato disperso e confuso Il Signore Dio farà sorgere una potente nazione tra i gentili Sì, proprio sulla faccia di questa terra e da loro la nostra posterità sarà dispersa E dopo che la nostra posterità sarà stata dispersa Il Signore Dio procederà a compiere un'opera meravigliosa fra i gentili Che sarà di grande valore per la nostra posterità Pertanto, più è paragonato all'essere nutriti da gentili e portati in braccio sulle spalle E sarà pure di valore per i gentili E non solo per i gentili, ma per tutto il casato Israele Fino a rendere note le alleanze del Padre e del Cielo con Abramo Che dicono Nella tua posterità saranno benedette tutte le stirpi della terra E io vorrei, fratelli miei, che sapesse che tutte le stirpi della terra Non possono essere benedette A meno che egli metta a nudo il suo braccio agli occhi delle nazioni Pertanto, il Signore Dio procederà a mettere a nudo il suo braccio agli occhi di tutte le nazioni Facendo avverare le sue alleanze e il suo Vangelo per quelli che sono il casato Israele Pertanto egli li porterà di nuovo fuori di schiavitù Ed essi saranno radunati nelle terre della loro verità E saranno portati fuori dall'oscurità e fuori dalle tenebre Ed essi sapranno che il Signore è il loro Salvatore e il loro Redentore, il potente Israele E il sangue di quella chiesa grande e abominevole, che è la prostituta di tutta la terra Ricadrà sulle loro teste, poiché si faranno guerra fra loro E la spada che hanno in mano cadrà sulla loro propria testa E si inebriano del loro proprio sangue E tutte le nazioni che scenderanno in guerra contro di te, o casato Israele Saranno rivolte l'una con l'altra E cadranno nella fossa che esse avevano scavata per insidiare il popolo del Signore E tutti coloro che combattono contro Sino saranno distrutti E quella grande prostituta che ha pervertito le diritte vie del Signore Sì, quella chiesa grande e abominevole troverà nella polvere e grande sarà la sua rovina Poiché ecco, dice il profeta, viene presto il tempo in cui Satana non avrà più potere sul cuore dei figlioli di uomini Poiché viene presto il giorno in cui tutti i superbi, gli operatori di iniquità saranno come stoppia E viene il giorno in cui devono essere bruciati Poiché viene presto il tempo in cui la pienezza dell'ira di Dio sarà riversata su tutti i figlioli dei uomini Poiché egli non permetterà che i malvaggi distruggano i giusti Pertanto egli persevererà i giusti mediante il suo potere Anche se accadrà che debba venire la pienezza della sua ira E i giusti debbono essere preservati, sì, fino alla distruzione dei loro nemici col fuoco Pertanto i giusti non debbono temere Poiché, così dice il profeta, essi saranno salvati anche se dovesse essere col fuoco Ecco, fratelli miei, io vi dico che queste cose debbono avvenire fra breve Sì, debbono persino venire il sangue, il fuoco e il vapore di fumo Ed è necessario che ciò avvenga sulla faccia di questa terra E ciò avviene agli uomini, secondo la carne, si accadrà che induriranno il loro cuore contro il santo Israele Poiché, ecco, i giusti non periranno Poiché deve certamente avvenire il tempo in cui Tutti coloro che combattono contro Sino saranno reciti Ed ora io, Nefi, vi dichiaro che questo profeta di cui parlò Mosè Era il santo Israele, pertanto egli eserciterà il giudizio in rettitudine E i giusti non debbono temere Poiché sono quelli che non saranno confusi Ma è il regno del diavolo Che sarà edificato fra i figli uomini Regno che è stabilito fra coloro che sono nella carne Poiché verrà presto il tempo in cui tutte le chiese che sono edificate per ottenere guadagno Tutte quelle che sono edificate per ottenere potenza sulla carne Quelle che sono edificate per diventare popolari agli occhi del mondo E quelle che cercano le confuscienze della carne e le cose del mondo E di compiere ogni sorta di iniquità Sì, infine, tutte quelle che appartengono al regno del diavolo Sono esse che debbono temere, tremare e rabbrividire Sono esse quelle che debbono essere abbassate nella polvere Sono esse quelle che debbono essere consumate come stoppia E ciò secondo le parole del profeta E viene presto il tempo in cui i giusti dovranno essere condotti come vitelli dalla stalla E il Santo Israele dovrà regnare in dominio, in forza, in potenza e grande gloria Ed egli raduna i suoi figlioli dai quattro canti della terra E conta le sue pecore Ed esse lo conoscono E vi sarà un solo greggio e un solo pastore Ed egli fascerà le sue pecore E in lui esse troveranno pastura E per la rettitudine del suo popolo Satana non ha nessun potere Pertanto non può essere sciolto per lo spazio di molti anni Poiché non ha nessun potere sui cuori del popolo Potere sui cuori del popolo Poiché essi dimoveranno in rettitudine E il Santo Israele regna Ed ora, ecco, io, Nefi, vi dico Che tutte queste cose debbono venire secondo la carne Ma ecco, tutte nazioni, tribù, lingue e popoli Dimoveranno in sicurezza nel Santo Israele Se accadrà che si pentiranno Ed ora io, Nefi, termino Perché non oso parlare oltre per ora Riguardo queste cose Pertanto, fratelli miei Io vorrei che voi consideraste Che le cose che sono state scritte sulle tavole di bronzo Sono veritiere Ed esse attestano che l'uomo deve essere obbediente ai comandamenti di Dio Pertanto, non dovete supporre che io e mio padre Siamo i soli ad averli attestati E anche insegnati Pertanto, se sarete obbedienti ai comandamenti E perseverete fino alla fine Sarete salvati all'ultimo giorno E così sia Amen